Chi ti chiami? Luca. Quanti anni hai, Luca? 5 e mezzo. Mi fai vedere com'è 5? Sai scrivere il tuo nome? In quale città ci troviamo, Luca? Latina. Lo sai scrivere in latina? Lo, A, P, I, N, A. Benissimo. Senti, sai quanti maschi e quante femmine ci sono? Li vogliamo contare? Contiamo le bambine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 9, 11, 12, 13, 14, 14, 15. Allora, lo sai scrivere il 15? uno e bravo bravissimo